Se è vero che i prezzi sono ancora lontani dal periodo pre-Covid, secondo l'osservatorio di Facile.it, da gennaio ad aprile 2022 il premio medio RC Auto in provincia di Caltanissetta è aumentato del 5,1, arrivando a 437,56 euro. L'area ha registrato il secondo incremento più alto in tutta la regione. Confrontando il costo medio RC Auto di aprile 2022 con quello di gennaio emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree. A guidare la classifica degli aumenti è la provincia di Palermo con un più 5,6%, seguita da Caltanissetta 5,1 e staccata di un soffio Enna con il 5,0. Continuando a scorrere la graduatoria siciliana si trovano Catania più 3,7, Ragusa più 1,7. Premi stabili invece in linea con quelli rilevati a gennaio per le province di Messina, Siracusa e Trapani, unica area che ha segnato un lieve calo da gennaio ad aprile 2022, meno 1,6%. In valori assoluti ad aprile 2022 Palermo si è confermata la provincia più costosa della regione, Enna la più economica. I dati completi dell'osservatorio RC Auto Caltanissetta e provincia sono disponibili nel link di facile.it.